Ok, ok. Dunque, molte sue colleghe hanno posato per calendari celebri. Se la chiamassero per posare su un calendario Pirelli, sarebbe disposta a posare di fianco a un pneumatico? No, farei... E' acceso? Neanche acceso. La vita spesso bisogna saper mentire. Ok, dunque, è meglio fingere un orgasmo o fingere di aver letto un libro? Fingere di aver letto un libro. Ha mai finto un orgasmo? No. Ha mai letto un libro? Sì. Quello ci ha pensato due volte. Ok, concorderà con me che alla base di una vita serena è necessaria armonia con il proprio partner. Ah, quello sì. Sessualmente, lei ha un punto G o tutto l'alfabeto? Tutto l'alfabeto, dalla A alla Z, grazie. Farebbe l'amore con me? No. Dice di no perché sono della spezia? No, non è perché è della spezia, proprio non mi interessa. Senta, scusi questa cosa. Nella vita di tutti l'adolescenza ha un ruolo fondamentale. Sì. Lei ricorda la sua prima volta? Beh, sì. Quanti eravate? No, due. Ah, due, due, ok, io due. Conferma due. Dunque, se fossi l'ultimo uomo sulla terra e fossimo soli su un'isola deserta... Uh. ...acce...